Siete semi di pace nell'inverno della guerra e quanto scrive Papa Francesco nella lettera i cattolici del Medio Oriente con la quale chiede la pace. L'anno giubilare sarà un cammino di speranza se simulerà il perdono, lo scrivono i vescovi italiani nel messaggio per la giornata dedicata al dialogo tra cattolici ed ebrei. Il nuovo ospedale di Andrea sarà di secondo livello e avrà una dotazione di altri 200 posti letto e quanto ha messo nero su bianco la giunta regionale pugliese. A Bisceglie è stata presentata Cattive Maestre di Maria Cafagna, un'analisi della televisione italiana in chiave femminista. Continuano a giovinazzo i festeggiamenti in onore dei Santi Medici, Abbi cura di me e la maratona della solidarietà per riportare alla luce la chiesa Santa Maria di Costantinopoli. Ben trovati alla seconda edizione del telegiornale di Teledeon. Siete semi di pace nell'inverno della guerra e quanto scrive Papa Francesco nella lettera ai cattolici del Medio Oriente. Sono con voi, scrive Bergoglio, che chiede la pace. Sentiamo. Semi di pace nell'inverno della guerra. Così Papa Francesco definisce i cattolici del Medio Oriente in una lettera a loro indirizzata e scritta in occasione dell'anniversario della guerra che insanguina la striscia di Gaza e che sta vivendo un ampliamento del conflitto verso il Libano. La miccia dell'odio non si è spenta ma è deflagrata in una spirale di violenza nella vergognosa incapacità della comunità internazionale e dei paesi più potenti di far tacere le armi e di mettere fine alla tragedia della guerra. Si legge nella lettera in cui Francesco sottolinea che pare che a pochi interessi ciò che più serve e che la gente vuole, ovvero dialogo e pace. Gli uomini oggi non sanno trovare la pace e noi cristiani non dobbiamo stancarci di chiederla a Dio, prosegue la missiva, in cui Bergoglio ricorda che preghiera e digiuno sono le armi dell'amore che cambiano la storia, che sconfiggono il nostro unico vero nemico, lo spirito del male che fomenta la guerra. Il pontefice si dice vicino a tutti gli uomini e le donne di ogni confessione e religione che in Medio Oriente soffrono per la folia della guerra. Sono con voi, ricorda il Papa. Non mi stanco di ripetere che la guerra è una sconfitta, che le armi non costruiscono il futuro ma lo distruggono, che la violenza non porta mai pace, aggiunge Bergoglio e conclude. La storia lo dimostra, eppure anni e anni di conflitti, sembrano non aver insegnato nulla. L'anno giubilare sarà un cammino di speranza, se stimolerà il perdono, lo scrivono i vescovi italiani nel messaggio per la giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. Ci auguriamo un allargamento del dialogo, aggiungono i vescovi. Ci auguriamo che l'anno giubilare, alla luce dei tempi che stiamo vivendo, sia la rinnovata occasione per cristiani ed ebrei di ritornare ai testi biblici letti insieme, fraternamente, secondo le proprie tradizioni. E' l'ospicio contenuto nel messaggio dei vescovi italiani per la 36esima giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, che sarà celebrata il 17 gennaio 2025. Il titolo della giornata è pellegrini di speranza e nel messaggio si ricorda che il giubileo è sempre un tempo di ripartenza, un tempo per fermarsi e ripartire guardando con speranza al futuro. E in questi ultimi tempi, segnati dal tragico atto terroristico del 7 ottobre 2023, dalla guerra successiva e dall'escalation del conflitto in Medio Oriente, i rapporti tra cattolici ed ebrei in Italia sono stati difficili, con momenti di sospetto, incomprensioni e pregiudizi. Ma il dialogo non si è interrotto, si legge. In Europa sono tornati atti deprecabili, di antisemitismo e incaute prese di posizione, a volte anche violente. Proprio per questo, ricordano i vescovi, il dialogo va rafforzato, continuiamo a crederci. Come Chiesa cattolica ci auguriamo che l'anno giubilare porti al rilancio e all'allargamento del dialogo, si augurano i vescovi, convinti che il giubileo sarà un cammino di speranza se stimolerà viedi di conciliazione e perdono. La giunta regionale ha messo nero su bianco che il nuovo ospedale di Andrea sarà di secondo livello e avrà una dotazione di altri 200 posti letto. Ne abbiamo parlato con il direttore generale della Aslabat, Tiziana Di Matteo. L'ultimo provvedimento di giunta ha precisato nuovamente che si tratta di un ospedale di 400 posti letto di secondo livello, anche se in realtà non vi erano dubbi su questo, tant'è che già come ASL già nel mese di luglio noi avevamo firmato, siglato l'atto aggiuntivo con i progettisti, con l'RTP, dando loro mandato di procedere alla realizzazione di un progetto di un ospedale di secondo livello e chiaramente con 400 posti letto, cosa che è stata confermata nell'ultimo provvedimento ma per la quale comunque non vi erano dubbi. L'attività sta procedendo spedita, stiamo rispettando il cronoprogramma e quindi speriamo di poter avere per la fine dell'anno già il progetto definitivo. Due nuovi alberi nel giardino di Via Aldo Moro ad Andrea e il giardino dei Giusti che si arricchisce grazie al Festival della Legalità. Andrea entra nella rete dei giardini dei Giusti, portato avanti dalla Gariwo, la foresta dei Giusti, un luogo simbolico della città alla memoria di donne e uomini che hanno fatto e perseguito il bene. Dopo Falcone e Borsellino nel giardino di Andrea sono stati impiantati due alberi con due targhe commemorative per Luca, Tanasio e Peppino Impastato, a futura memoria del loro impegno. Una iniziativa resa possibile grazie al console onorario Riccardo Di Matteo che si lega a pieno titolo al Festival della Legalità in corso di svolgimento proprio ad Andrea. Prima del taglio del nastro all'interno del giardino di Via Aldo Moro, altro appuntamento di rilievo in sala consigliare ad Andrea, la presenza di Giovanni Impastato, fratello di Peppino, vittima della mafia nel 1978 e di Salvatore Atanasio, padre di Luca, ambasciatore italiano in Congo, morto a soli 43 anni in un attentato durante una missione del PAM, il Programma Alimentare Mondiale, insieme al Carabiniere della Scorta, Vittorio Iacovacci e un autista congolese. Il Festival della Legalità ci dà ogni anno la possibilità di ascoltare testimonianze, esperienze, parole preziose, direttamente da chi ha vissuto esperienze forti, ha commentato il sindaco Giovanna Bruno, che non possono essere dimenticate ma che vanno invece ricordate, tramandate, perché non si dimentichi il sacrificio di tanti uomini e donne che si sono battuti per un ideale. Ieri a Palazzo di Città ad Andrea si è svolto un incontro pubblico organizzato dal forum Ricorda Rispetta dal titolo Elettromagnetismo facciamo chiarezza per informare e sensibilizzare sul tema tutta la comunità andriese. Fare chiarezza sugli effetti causati dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati dai dispositivi elettronici di varia natura, che secondo studi scientifici possono essere nocivi per la salute dell'uomo. Si è svolto a Palazzo di Città di Andrea l'incontro pubblico organizzato dal forum Ricorda Rispetta e curato dal dottor Agostino Di Ciaula, presidente del Comitato ISDE per l'Ambiente, finalizzato ad informare e sensibilizzare l'intera comunità cittadina sui rischi derivanti da questo tipo di inquinamento. C'è una marea di inquinanti e non soltanto chimici come quelli dell'aria ma anche fisici come quelli dell'elettromagnetismo ad alta frequenza che agiscono in maniera combinata, per cui andrebbe valutato l'effetto cumulativo di tutti questi inquinanti in maniera particolare sulle fasce più vulnerabili della popolazione, sono soprattutto i bambini, le donne in gravidanza e i pazienti affetti da malattie croniche. Il problema adesso crescente è che praticamente in tutti i centri abitati sta aumentando progressivamente non soltanto il numero di antenne ma anche la potenza di emissione di queste antenne. E al problema della radiotelefonia classica si sta aggiungendo negli ultimi anni il problema del 5G che è una forma assolutamente inedita e particolare di inquinamento da elettromagnetismo ad alta frequenza che si somma tutto quello che già c'era prima. Nel corso dell'incontro sono stati presentati dati conclusivi che riguardano il monitoraggio degli inquinanti aereo dispersi relativi al periodo giugno 2023-giugno 2024 come da progetto della società Wiser di Milano. I dati dimostrano che dal punto di vista della qualità dell'aria per quanto riguarda quelle che sono state le rilevazioni sono abbastanza buoni perché comunque non comprendevano il biossido di azoto che invece sarà un'attività che faremo nel prossimo anno. Di dati posso citare quelli che abbiamo avuto. La percentuale di giorni verdi è pari al 92% quindi significa che l'aria per quanto riguarda le rilevazioni che abbiamo fatto sono sicuramente buoni. Il mese migliore è stato luglio che non ha evidenziato alcuna giornata il peggiore è stato febbraio del 2024 dove abbiamo avuto 5 giorni rossi, 2 giorni gialli e poi 22 giorni verdi. Il prodotto turistico e le ricadute territoriali nella filiera delle imprese pugliesi è stato il tema al centro dell'incontro che si è svolto nello stand della Regione Puglia presente al TTG di Rimini nei giorni scorsi. Ascoltiamo tutti i dettagli nel servizio. La Puglia quale metta fruibile tutto l'anno si lavora per ampliare l'offerta turistica partendo dai prodotti che contraddistinguono la Regione. È proprio il prodotto turistico mare e tanto altro e tra le tematiche al centro della partecipazione della Regione Puglia al TTG Travel Experience di Rimini. Si tratta della maggior fiera italiana B2B del turismo che ogni anno riunisce oltre 1000 buyers provenienti da 75 paesi del mondo. Il prodotto è culturale principalmente, poi enogastronomico, poi c'è la bicicletta, il cosiddetto bike tourism e poi c'è il wedding, ci sono i matrimoni. Questo è il quadro all'interno del quale la Puglia si muove e abbiamo degli spot dedicati a ciascuno di questa attività. Il wedding con Alessandro Piva, con Magenta abbiamo fatto lo spot enogastronomico, stiamo lavorando sul bike con la Casellati. Abbiamo tutti in campo delle strategie, ognuna per un prodotto della Puglia. Il prodotto turistico e le ricadute territoriali nella fiera delle imprese pugliesi. Questo è il titolo dell'incontro tenutosi nella sala meeting dello stand della Regione Puglia al TTG. Diretto l'invito dell'assessore al turismo Gianfranco Lopane è rivolto proprio alle imprese. Guardate all'identità del vostro territorio. L'unico modo per ragionare in termini di stagionalità turistica e quindi di dare alla Puglia la possibilità di essere una destinazione sempre presente sul mercato 365 giorni l'anno è quello di stringere un patto infraterritoriale sui prodotti turistici. Da questo punto di vista l'esperimento, il processo che ci porterà a introdurre le destinazioni turistiche sarà molto caratterizzato sull'individuazione dei ruoli e quindi sul fatto che i territori possano contribuire notevolmente nella costruzione dei prodotti turistici. Ma deve essere chiaro a tutti che le esperienze che riusciamo a raccogliere dei territori, a mettere sul mercato debbano avere una spinta notevolissima dagli operatori e io credo che da questo punto di vista la Puglia possa ancora distinguersi perché i prodotti che distinguiamo nella nostra strategia i cinque macro prodotti sono una parte ma poi ci sono delle mille sfaccettature che possono essere declinate con progettualità specifiche. Per cui l'invito ai territori è a guardare all'identità degli stessi e a capire come le esperienze che magari vengono da tradizioni di molti secoli possano rappresentare un elemento di attrazione rispetto a quello stesso territorio. Quella dell'incontro è stata anche un'occasione per presentare l'avviso pubblico prodotti turistici dell'Agenzia Regionale del Turismo Puglia Promozione. Per la prima volta nell'arco di questi anni abbiamo pensato ad un avviso strettamente collegato ai cinque prodotti turistici che stiamo portando avanti negli anni. Il prodotto è no gastronomia, arte, cultura, natura, sport e benessere, mare nautica e ovviamente il wedding che non può mancare. L'avviso tende a far emergere quelle che sono le progettualità anche territoriali e rivolto a far venire fuori quelle che sono le experience autentiche del territorio e pertanto si rivolge agli imprenditori che hanno la possibilità di far vivere al turista che arriva in Puglia delle esperienze autentiche a contatto con la natura, sostenibili, innovative e che ovviamente possono essere spendibili in qualsiasi parte dell'anno. E adesso cambiamo argomento. È stato eseguito nell'ospedale Bonomo di Andrea un intervento chirurgico che ha consentito di impiantare il primo pacemaker bicamerale senza fili su una donna di 84 anni. I dettagli nel servizio. Un'innovazione straordinaria per la cardiologia e l'elettrofisiologia. Due pacemaker senza elettrocateteri capaci di comunicare e sincronizzarsi tra di loro a ogni singolo battito del cuore. Un impianto che per la prima volta è stato innestato su una donna di 84 anni. Paziente dell'ospedale Bonomo di Andrea. L'anziana soffriva di sindrome bradi-tachi e altre disfunzioni. L'intervento di applicazione del dispositivo è stato eseguito in anestesia locale ed è durato quasi 40 minuti. Il pacemaker bicamerale senza fili viene impiantato direttamente nel cuore attraverso una procedura minimamente invasiva ed eliminando la necessità di elettrocateteri cardiaci. Di conseguenza riducono l'esposizione delle persone a potenziali complicanze come le infezioni e offrono un periodo di recupero post-impianto meno restrittivo e più breve, chiarisce Domenico Gianfrancesco, responsabile di elettrofisiologia del Bonomo, evidenziando che ogni dispositivo è circa 10 volte più piccolo di un pacemaker tradizionale. La cardiologia e l'elettrofisiologia italiane stanno vivendo la loro rivoluzione grazie all'innovazione tecnologica con procedure sempre meno invasive e dispositivi impiantabili sempre più sofisticati, miniaturizzati e connessi, conclude Francesco Bartolomucci, direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia dell'ospedale di Andria. E fino a domani sono in corso le visite nell'ambito delle giornate FAI d'autunno 2024, un momento di straordinaria valorizzazione dell'immenso patrimonio del nostro territorio. Tornano le giornate FAI d'autunno, la grande festa di piazza, siamo alla tredicesima edizione e quest'anno raccontiamo un altro aspetto del nostro immenso patrimonio della delegazione. L'anno scorso erano per lo più declinate sull'ambiente, quindi aspetti naturalistici. Noi siamo FAI fondo per l'ambiente italiano, come dico sempre, una differenza che abbiamo introdotto sostanziale, perché è declinata sulla cura e sulla presa in carico degli aspetti naturalistici a 360 gradi. Quest'anno invece torniamo ai beni architettonici, torniamo non solo alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio materiale, quindi palazzi pregevoli, ma anche e soprattutto alla tutela del patrimonio e al racconto del patrimonio immateriale. Riprendiamo i nostri apprendisti ciceroni, perché noi cominciamo questo percorso nelle scuole superiori e addirittura nelle scuole medie. I ragazzi per noi sono i protagonisti, sono coloro i quali consegniamo il messaggio di tutela. Tra l'altro stiamo tentando anche con il Politecnico di Bari di sottoscrivere una convenzione per consentire a loro di portare avanti questo percorso e quindi poi di accompagnarci come volontari. I volontari sono tutto, senza di loro non avremmo potuto fare nulla. È stato presentato a Biceglie, cattive maestre di Maria Cafagna, un'analisi della televisione italiana in chiave femminista. Un'analisi critica della televisione degli anni 90 e 2000 in chiave femminista. Paola Cortellesi, Maria De Filippi, Belen Rodriguez, Ilari Blasi, Ambra Angiolini. Volti della televisione italiana esempio di emancipazione per il pubblico, ma anche di TV spazzatura. Donne del piccolo e grande schermo che nel tempo hanno influenzato e continuano ad influenzare la vita quotidiana dello spettatore. L'autrice di origini molfettesi, Maria Cafagna, le presenta e analizza questo fenomeno nel suo saggio di formazione dal titolo Cattive maestre. Sono state un po' a volte delle figure aspirazionali, le guardavamo aspirando a diventare loro, come nel caso di Ilari Blasi o di Belen Rodriguez, che sono rappresentate anche dei modelli femminili di bellezza, o nel caso delle ragazze di Nonnella Rai, per sentirci come loro, magari per immedesimarci in loro e sognare di essere anche noi a bordo piscina a ballare e a cantare. Tutte le donne che ho intervistato, da Michela Girò a Daniela Collu, mi hanno appunto raccontato questa cosa. Le guardavamo perché erano come noi. E questo principio di immedesimazione poi è qualcosa che ci siamo portati appresso come società. Negli anni 90, 80 e inizio 2000 c'erano le donne della televisione. Adesso ci sono le influencer e i content creator che imperversano su TikTok o su Instagram. Sono la riproposizione di un modello che è antichissimo, che è ciò che noi ci aspettiamo che una donna dovrebbe essere. Una casalinga, un'imprenditrice arrembante, una imprenditrice digitale. Sono tutti modelli che vengono veicolati attraverso dei media che peraltro non sono il riflesso di quello che la società ci chiede e in molti casi ci impone di essere come donne. Secondo me è importante cercare, mettersi in cerca a 14-15 anni di tante, anzi di aprire la mente attraverso i libri, ma anche attraverso i social, attraverso i film, attraverso le serie TV e attraverso l'incontro con l'altro, anche attraverso lo sport. Io per esempio sono stata una bambina che ha fatto pochissimo sport, né pago le conseguenze. Quindi se trovassi una ragazzina di 14 anni che mi chiedesse un consiglio, ti direi, fatti la tua vita, però mi raccomando, fai sport qualunque esso sia e poi impara una lingua, perché è importante in un mondo così globalizzato, internazionale, che le nostre ragazze abbiano tutti gli strumenti per potersi autodeterminare nel nostro paese ma anche fuori. La presentazione del libro si è tenuta nella libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro di Biceglie. Come ogni mese cerchiamo di mettere insieme, di creare appunto un calendario che abbia un'offerta molto eterogenea rispetto a presentazione di libri. Una serie di incontri che hanno come appunto temi principali l'attualità o comunque determinati aspetti della realtà che ci circonda o semplicemente, dico semplicemente ma non vuole essere riduttivo, i romanzi e quindi le storie dentro le quali ci piace stare e appunto viaggiare. L'Istituto Monsignor Antonio Bello di Molfetta ha celebrato la ventesima giornata del Contemporaneo. Il tema scelto quest'anno è l'accessibilità. Installazioni, dipinti e declamazioni di poesie in duplice lingua per raccontare attraverso l'arte l'accessibilità intesa come abbattimento delle barriere culturali, intellettive, sensoriali e architettoniche. Gli alunni del Liceo Artistico e dell'Istituto Superiore Monsignor Antonio Bello insieme all'Orchestra del Liceo Vito Fornari di Molfetta hanno voluto così celebrare la ventesima giornata del Contemporaneo. L'invito che farò agli studenti è quello di vivere la contemporaneità in maniera attiva superando quell'idea passiva di omologazione, messaggi di questo, quello influencer piuttosto che seguire quello che il branco propone ma un invito ad attestare le proprie identità che sono sempre significative anche nelle differenze l'uno rispetto all'altra e soprattutto ad essere capaci di condividere le idee con gli altri e anche insistere affinché queste idee possano trovare una visione reale nel mondo che sarà il loro mondo, il loro futuro. La manifestazione è promossa dall'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani e dal 2005 coinvolge musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private su tutto il territorio nazionale raccontando la vitalità dell'arte contemporanea nel paese. L'arte contemporanea è l'arte dei nostri giorni è l'arte di chi si esprime attraverso questo linguaggio ed è l'arte di questi tempi ed è l'arte che in qualche modo induce a riflettere, a pensare, a porsi delle domande ed è proprio quello che abbiamo fatto con l'installazione creata dai nostri studenti della zattera che vediamo qui in auditorium. All'interno di questa zattera infatti noi troviamo, vediamo, un grande libro che rappresenta proprio lo strumento attraverso il quale il tema dell'accessibilità può essere affrontato e anche gli ostacoli superati perché è la cultura che ci permetterà di fare questo e i ragazzi l'hanno capito qui la scuola è il luogo ideale per parlare di questo argomento e per affrontarlo con consapevolezza. Prosegue a Giovinazzo all'interno dei festeggiamenti in onore dei Santi Medici, Cosma e Damiano la Maratona della Solidarietà Abbi Cura di Me per riportare alla luce la Chiesa Santa Maria di Costantinopoli. Sentiamo. E' tanta la generosità dei Giovinazzesi dimostrata già dai precedenti appuntamenti di sensibilizzazione per il recupero della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. Prosegue infatti la Maratona della Solidarietà con Abbi Cura di Me il progetto di risanamento conservativo della Chiesa nel centro antico di Giovinazzo alla quale la comunità è legata dal 1500. La Chiesa di Costantinopoli nasce nel 1500 dopo un voto che i Giovinazzesi fanno all'indomani della peste, della terribile peste del 1500. In primis viene dedicata a San Rocco poi con l'avvento della confraternita viene cambiato il titolo in Santa Maria di Costantinopoli. La Chiesa è al centro della devozione del popolo ed è così bella perché è un voto che il popolo fa a San Rocco e alla Madonna di Costantinopoli. Di pregevole fattura è l'altare dedicato alla Madonna di Costantinopoli in legno dorato e anche il soffitto che è l'incoronazione della Vergine Santissima. È al centro della devozione soprattutto dei marinai perché la Chiesa è a ridosso dell'antico porto della città. In epoche più recenti la Chiesa era sempre aperta e molti Giovinazzesi hanno celebrato in questo luogo il loro matrimonio. Ecco perché la Chiesa è cara per tanti motivi. Nel passato perché ricorda un evento triste della peste. Nel presente perché ha accompagnato generazioni di Giovinazzesi nei momenti lieti, nei momenti anche tristi ed è uno scrigno di arte, di fede e di cultura. E questo è bello perché ricorda a tutti quanti noi la bellezza che in questo luogo noi possiamo sperimentare. All'interno dei festeggiamenti in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano la confraternita Santa Maria di Costantinopoli ha voluto inserire una serata musicale per portare avanti il progetto Abbi Cura di me, invitando a donare un piccolo contributo per portare a compimento i lavori di restauro. Al clarinetto Andrea Zecchillo, al pianoforte Domenico Bruno e la voce del soprano Veronica Sinigaglia. Il progetto di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è articolato in tre micro progetti. Tutti gli interventi sono pensati e saranno eseguiti con l'alta sorveglianza della sovraintendenza di Bari e avranno come obiettivo principale quello di andare a valorizzare e conservare i valori artistici che il bene racchiude in sé. Ed è tutto per questa seconda edizione del telegiornale di Teledeon che termina qui. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una serena serata in compagnia dei nostri programmi televisivi. Previsivi. Grazie a tutti.